Anfaccia a tutti ragazzi, qui è Canelupo ed oggi sono qui per, diciamo, parlarvi della questione dei 1500 iscritti visto che ci siamo quasi, vabbè ancora no, mancano 70 persone, comunque sono tante, però è meglio avvertire molto prima allora, vi ricordate cosa avevo fatto per i 1000 iscritti? Il torneo 1 vs 1? Io volevo riproporlo sulla mia pagina di facebook quindi mettete mi piace alla pagina facebook per partecipare al torneo 2500 iscritti, ma mi avete chiesto anche di fare un altro speciale per i 1500 non solo il 1 vs 1, ma anche chat roulette, però no incontrando i fans, ma cazzeggiando puramente ora, io mi sono detto, chat roulette l'hanno fatto altri youtuber, ormai è, cioè, è diventata più conosciuta di code e quindi non, io però, a me piace, a me piace fare gli scherzi su chat roulette o comunque cazzeggiare tra virgolette a me piace poi consigliatemi voi qua sotto cosa volete fare e se riesco vorrei fare anche tutte e due, quindi due speciali ora non so, intanto voi scrivetemi sotto se preferite per me, uno vs uno e l'altro o chat roulette in modo tale che mi posso anche, diciamo, organizzare meglio tutti e due gli eventi li darò sulla pagina facebook quindi chat roulette incontrerò anche voi, scusate, prima ho detto che non era per i fans incontrerò anche voi, ma soprattutto cazzeggerò di più quindi magari dividerò i pezzi, le scene in due pezzi dove ci sono i fans e il periodo cazzeggio quindi me lo fate sapere voi e mi raccomando il like sulla pagina facebook che basta che clicchiate qua e andate su facebook o chi non ha ancora follower su twitch basta che followvi qua e ragazzi a faccia tutta a faccia a tutta che cazzo ho detto a faccia a tutti ragazzi da Canelupo